Il Vangelo secondo Gentilini che dice che le panchine sono una prerogativa per i cittadini che hanno lavorato e che vogliono riposare e non per i vagabondi e non per i personaggi che non sanno cosa fare tutto il giorno. Io le avevo eliminate e vedo che non soltanto in Italia ma anche all'estero hanno copiato il sindaco Gentilini. Gli valse l'appellativo di sceriffo e lo rese famoso in tutta Italia, con lui il nome della città di Treviso. Era il 1997 Gentilini alla guida della città da tre anni, stanco dei continui episodi di degrado in via Roma. Dall'oggi al domani scelse di togliere le panchine dove decine di giovani passavano le giornate. Così come minacciò di fare anni dopo in Resterra. Era il 2009. Proprio in quel periodo farà alzare le barricate sui giardinetti Sant'Andrea per proteggerli dai vagabondi blindando di fatto l'unico polmone verde del centro storico dopo le mura. Nel suo programma la decisione di illuminare a giorno le mura cittadine e poi le passeggiate per le strade anche di notte. A distanza di molti anni Gentilini fu copiato anche a Ferrara dove il sindaco fece togliere le panchine ai giardinetti. A mio tempo avevo le pattuglie che giravano di giorno e di notte. Io pretendo che anche il sindaco Mario Conte applichi anche quella forma di sicurezza.